Ciao a tutti, salve a tutti, ben ritrovati. Io sono ancora in compagnia di Valeria Cerutti, stavamo commentando le fasi del suo evolversi, del suo divenire pittorico, perché dovete sapere che Valeria mi ha raccontato che la sua pratica artistica si evolve in diverse fasi. Se Valeria Cerutti inizia, come un po' tutti, come da ordinaria, normale, studente, diligente, studente, accademica, con un percorso figurativo, oggettivo, con una pittura appunto oggettiva, che rappresenta qualcosa di decifrabile, leggibile, e lo fa per molti anni, ad un certo punto della sua vita accade qualcosa, accade un momento, attraverso un momento importante, forse doloroso, forse opprimente per te, però importante per il tuo evolversi artistico, perché ti porta poi, ti apre una strada assolutamente nuova. Con questi due quadri che hai portato qui dentro, vuoi appunto, vuoi spiegare cosa avvenne in quel momento? Sì, è stato proprio un momento, come hai definito te, di rottura, da un prima e un dopo. E nel mezzo, proprio in un mondo di mezzo, ci sono queste due tavole, una che rappresenta la Fenice, che insomma è un quadro che sento tantissimo. Perché la Fenice? La Fenice proprio perché cercavo un qualche cosa. Adesso qui lo stiamo inquadrando meglio e ovviamente non si può non notare quanto importanti siano e quanto belli siano questi giochi di luce e... Sì, ecco, questo è... Passionali. Sì, è rappresentato appunto alla Fenice e non ha disegno, sono solo pennellate di colore. Non ha disegno? Non ha, no, sono pennellate di colore fatte sulla tavola, preparata già da sfondio nero. Tavola di legno? Tavola di legno. No, non è una tela, sì. Sono solo pennellate e formano fra la loro unione appunto questa Fenice che ho preso come simbolo di quel periodo, perché come sappiamo è l'uccello magico che rinasce dalle proprie ceneri e che così riprende un po' la mia passione per i miti, no? Certo. Per la magia, per la favola e lo sento tanto, anche se purtroppo non è più il mio. Cioè? È stato venduto due anni fa durante una mostra e me l'ha prestato, me l'ha prestato per farvelo vedere. Come ti senti quando ti comprano le opere, ti dispiace di abbandonarle? Vado anche lì a periodi, perché c'è stato un periodo di quando studiavo che avevo la necessità di vendere i quadri per pagare le bollette, eccetera, eccetera. Allora io guardavo di quant'era la bolletta e se qualcuno voleva un quadro la bolletta era pagata, capito? Adesso faccio praticamente la stessa cosa, però no, sono contenta, sono contenta e loro insomma mi fanno vivere, ecco. E quindi se vanno via è come un figlio quando riesce a mantenere i propri genitori, ecco, loro andando via mi aiutano. Fanno la sua strada, insomma. Eh sì, eh. E invece questo, alla mia destra? Ecco, il non ce la posso fare, è quello che appunto dà una netta scissione a questi due momenti. È il primo che hai scritto? Sì, è il primo che ho scritto. Allora adesso ti racconto brevemente. Esatto. Stavo facendo un figurativo su quella tela, no? Infatti non so se si vede, dietro c'è una figura. No, ma ce ne sono cinque o sei sotto, quella tela che peserebbe un niente pesa tantissimo perché ha una marea di colori, uno sopra, uno strato sopra l'altro. Insomma, quella tela lì non mi veniva, niente, niente, io lì non ce la potevo fare, sia sulla tela che in quel momento, capito? E allora invece di disperarmi così ho preso il pennello e glielo ho scritto, non ce la posso fare. E da lì, qui ti dico, mentre stavo dipingendo questo quadro, entra questo signore. Mentre stavi dipingendo? Sì, sì, mentre lo stavo, entra questo signore e dice no, è bellissimo questo quadro. Io cosa? No, non è possibile, no, 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 è bellissimo, va bene, va bene, non toccarlo più, non toccarlo più. Perché per me quello era uno sfogo, capito? Non ce la posso fare ed era quello che io sentivo in quel momento. E secondo me è questa, capito? Cioè Valeria stava lavorando, come sempre, un'altra volta ad un figurativo, stava facendo, io non so se si vede che dietro c'è un'immagine, una figura, che non gli veniva, l'ha provata più volte, l'hai provata più volte, è vero? Sì, 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 anche perché poi la maggior parte... Ecco, non ti veniva e hai scritto sopra, non ce la posso fare. No, non ce la posso fare. Questa è diventata non solo un emblema, un manifesto, diciamo, di una nuova libertà artistica, questo quadro, questo non ce la posso fare, questa esplosione all'interno di te stessa, della tua arte, è diventato un input per cercare qualcosa di nuovo. Sì, per cercare qualcosa di nuovo. È stato apprezzato, è stato venduto e quindi comunque è diventato, ha avuto un suo rendiconto. Nello stesso tempo però ti ha dato, ti ha aperto una nuova strada. Sì, mi ha fatto vedere le cose in maniera diversa, hai capito? Poi dopo ho cercato di seguire quello che ho provato scrivendo sopra, quello che sentivo, hai capito? Eh, invece magari di rappresentare, scusate, rappresentarlo attraverso uno sguardo così. No, no, io che cosa sento? Che non ce la posso fare. Beh, adesso te lo scrivo, voglio vedere se non lo capisci. In questo quadro, la Fenice, ho parlato di colori, tu hai detto il colore è la mia salvezza. Sì, il colore è tutto, è tutto il mio mondo, tutta la mia fantasia. Io quando sento l'odore proprio dei barattoli di vernice, per me è bellissimo, è la magia. Quando vedo, non so, i miei pennelli, i miei colori, il profumo. Però hai detto, spesso me ne sono allontanata, no? Mi sono allontanata dalla... in più periodi tu ti sei allontanata, sei distaccata dall'arte. E' quando avevo più difficoltà, che dovevo rimboccarmi le maniche in un altro modo e impegnarmi ad altro. Tu avevi un blog che si chiamava Liberiamo l'arte, dove scrivevi dei tuoi pensieri, l'abbiamo già detto. Sì, sì. Era una sorta di cronaca delle tue giornate. Iniziavi a scrivere al mattino, quando ti svegliavi, documentavi le tue giornate con Billy, il tuo cane, documentavi il tuo lavoro artistico. Ho comprato una tela, ho comprato i colori, adesso mi metto davanti. Io l'ho letto, l'ho seguito con molta enfasi, devo dire. Però quando ti ho chiesto di quel blog, tu mi hai detto che quel blog mi ricorda un momento... Sì, un po' pesante. Un po' pesante. Un po' pesante, sì. E adesso ci sono stati due momenti. Infatti quel blog lì l'ho interrotto alla fine del 2012, che è stato un anno un po' particolare. bello e, insomma, stancante sotto un altro punto di vista, perché alcune persone cercavano di seguire il mio cammino artistico, però in maniera sbagliata. Ti eri affidata a dei, chiamiamo così... Delle persone. Sì, mecenati, mercanti d'arte. Sì, che volevano, sì, sì, sì. Che ti commissionavano delle opere, ti sottoponevano alla realizzazione di alcune opere, cercando di guadagnare su queste opere e facendoti guadagnare il meno possibile. Sì. Questo è stato un momento particolare per te. Sì, è stato orrendo, bruttissimo. Da una parte perché ti si imponeva di dipingere con una frequenza molto pressante, no? Esatto, sì. Perché la tua arte era sfruttata. Uno al giorno. Un quadro al giorno dipingevi. Non è semplice dipingere. No. Non so, per la tua mente, perché deve sempre ideare cose nuove, ma soprattutto perché è stancante, no? Io potrei farne anche uno al giorno, però... Liberamente. Eh, sì, sì, sì. Quando hai delle persone che ti stanno sul collo, poi meno male. Adesso riprendo... La tua libertà. Sì, sì, sì. E poi riprendo in ballo mia sorella che mi ha... Ah, qui vediamo alcune... Sì, esatto. Qui vediamo, questo è il blog... Mi ha tolto da quel giro. Liberiamo l'arte adesso. La figura che noi vediamo è una figura che è relativa al cuorismo. Questo è il tuo blog? Sì, questo è il mio blog e ti prometto che lo riprenderò da oggi, da quando tornerò a casa. Me lo prometti? Sì. Che continuerai a documentare tutto il tuo fare artistico? Io voglio che tu continui ad associare alle tue pitture, ai tuoi quadri, alle tue tele, alle tue tavole di legno, la grande potenza espressiva che tu possiedi e continui a scrivere della tua arte e della tua vita che vanno di... vanno insieme, vanno di pari passo e credo che il fondamento della tua grande potenza espressiva e potenza artistica sia tutto in quello che è passato, in quello che è vissuto. E anche questi periodi brutti, questi periodi stressanti della vita di ognuno di noi hanno il merito di averci formato e di averci trasformato come persona. Questo momento che tu hai vissuto è stato accantonato, è stato superato, adesso tu sei libera di poter dipingere ciò che vuoi, ciò che ti piace e si vede. No, e poi soprattutto di dare i miei quadri a tutti. Di dare i tuoi quadri a tutti. Perché quei quadri allora costavano tantissimo. Sì, costavano veramente tanto. Tanto, mettiamo una cifra? Dei 5.000 in su. Costavano davvero tanto. E quindi non... giustamente non tutti potevano permetterselo. E invece legato alla... c'è un avvenimento anche, un periodo legato anche a tua madre, no? Un periodo importante. Sì, perché poi l'anno dopo è mancata e allora anche lì è stata insomma una cosa un po'... Un po', sì, 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 è sofferto tanto insomma. E durante quel periodo brutto di cui non parliamo, hai dipingevi? Sì, ho dipinto, ho dipinto, però così, capito? Tanto per... Tanto per rimanere allenata, non c'eri con la testa. Sì, sì, ma non è che io penso, cioè in quel momento penso, lo faccio per rimanere allenata. Certo. No, non so come spiegarti, non è che, per esempio, quando sono in cucina adesso, per farti capire, non è che dico, ah, adesso vado a dipingere, no. Ecco, vado. Vado. Vado, vado, capito? Senti l'impulso e vai. Non lo sento neanche, cioè mi alzo e vado. E... boh, intingo i pennelli e vado. E a casa hai un piccolo... Ho una camera, una cameretta. Sì, dove... Immagino sia tutta sporca di colore, o no? Sì. Sei ordinata? Sì, come me adesso mi vedi pulita, ma di solito io non sono così, eh, no, no. No, no, non è ordinata, no. Non... È piena di macchie di colore, è piena di... Sì, sì, poi non sono molto brava. Io amo i pennelli, però non li curo. Non li curi, perché andrebbero puliti, andrebbero lavati ad ogni... Sì, sì, sì. Io non lo so perché, non lo so. Quante volte cambi i pennelli? Quanti pennelli cambi? È che io non mescolo i colori, io toccio, toccio i pennelli e ho pochissimi colori. Con quelli li faccio tutti, capito? Non lo so, ho un approccio strano, non... Cioè li metti insieme? Sì, poi magari a volte mi mancano dei colori, faccio senza e dipingo con quello che ho. Poi quando dilusso, allora mi li vado a comprare. Cioè, quando hai delle entrate... Sì, 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 per esempio domani andrò a comprarveli. Esatto. È bello perché comunque con la tua arte, il tuo investimento è l'arte, quindi... Quello che guadagni dalla tua arte lo reinvesti per quello. Sì, è tele, colori... Costano tantissimo. Sì, costano tanto, costano veramente tanto, tanto, sì. Comincia ad utilizzare dei materiali nuovi che magari non costano quanto le tele. Per esempio il legno già è un buon punto di partenza. Sì, sì, è un buon punto di partenza, sì, si fa, sì. Si può fare, si può fare di tutto, no? Si può fare di tutto, sì. Benissimo Valeria, io ti saluto qui, è stato un piacere, ci vediamo domani. È stato bellissimo parlare con te, saluto il nostro pubblico. Mi raccomando, seguiteci domani. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Ciao.